Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Sara e bentornati in un nuovo video e in un nuovo reading vlog spero che questo tipo di video a voi piaccia perché io mi sto divertendo tantissimo a farli spero di essere un po' più coerente e riuscire a farli un po' più carini questa settimana e questo mese in generale però sono super gazzata perché siamo ad ottobre, my favorite mod ever, quindi sono super gazzata per quanto riguarda le mie letture ma direi di buttarci subito nel cosa intenzione di leggere Sara durante questa settimana assolutamente il mio obiettivo principale è leggere A Deadly Education in realtà esce anche The Invisible Life of Eddie LaRue quindi se riesco a finire A Deadly Education poi il prossimo che leggerò in ebook sarà The Invisible Life of Eddie LaRue non so ancora che libro cartaceo leggere quindi ci penserò magari nella prossima clip ve lo farò sapere e formaggio di un libro sto ancora ascoltando Never World Wake di Marisha Pessel Never World Wake è un thriller young adult in cui seguiamo la vita, le avventure in realtà di questa ragazza che ha perso l'anno prima il fidanzato che è stato assassinato e non si sa da chi ha perso i contatti con tutti i suoi amici ma accetta di passare quest'ultima serata con loro dentro una casa insomma che erano soliti frequentari ma c'è un incidente per la strada e loro vengono visitati da quest'uomo che gli informa che stanno per morire fondamentalmente sono entrati nel Never World Wake quindi ogni giorno a tre minuti prima che si resetti l'orologio hanno l'opportunità di votare perché uno solo di loro si salverà mentre tutti gli altri moriranno e il voto deve essere unanime quindi questa è la premessa iniziale io sono ancora veramente entro il primo 25% però lo sto trovando molto interessante e lo sto ascoltando su Scrooge A Deadly Education invece parla di questa scuola per magia fondamentalmente un po' stile la chiesa rossa di Nevernight nel senso che muoiono tutti lì dentro si diploma meno della metà della classe di senior ogni anno perché la scuola è piena di trappole e persone che cercano di ucciderli ma il mondo fuori è più pericoloso ancora perché in questo mondo la magia può essere mana o malia quindi mana è quella sviluppata da se stessi che si può anche poi tenere da parte la malia è quella prelevata dalle altre creature viventi e se si usa la seconda si finisce per diventare malefici tra virgolette e i malefici adorano usare la forza vitale dei piccoli maghi e quindi praticamente il mondo esterno è estremamente pericoloso e la nostra protagonista si trova all'interno di questa scuola ho letto troppo poco per potervi dire di più della trama però per adesso sembra super 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 interessante e sì, cosa devo fare in questo momento? oggi ho un sacco di cose da fare io ho un esame importantissimo lunedì prossimo che devo passare assolutamente quindi sto facendo studio matto e disperato non vi faccio vedere il casino che c'è qui ma oggi devo anche andare a fare la spesa che è quello che sto per andare a fare subito e poi passare alle poste per spedire i pacchetti di Never Sleeves il mio store ha riaperto non so se tutti voi mi seguite sul profilo Instagram di Never Sleeves però in caso vi lascio un link del negozio Etsy qui sotto perché c'è ancora qualche prodotto disponibile ci sono ancora 4 sleeve disponibili da acquistare o sì, 4 o 5 e in più ci sono i portasfille come quello che c'è qui sopra quindi se vi interessa io ve lo lascio linkato qui sotto vi farò vedere anche magari mentre impacchetto qualcosa di questo e sì, queste sono le cose che devo fare cioè fare la spesa, passare alle poste e studiare mi sono data dei momenti in cui posso fare pausa e posso leggere un pochino che sono dopo aver finito un pacco di slide da 40 o cioè non sono slide, sono 40 pagine da ripete quindi sono veramente pagine di libro e niente, per il momento questo è tutto e poi ci vediamo quando avrò un aggiornamento nel frattempo ascolterò il Never Will Wake mentre faccio la spesa ok, io mi aspettavo di aggiornarvi tra in realtà un bel po' di ore ma dopo che ho fatto la spesa è arrivato il corriere e mi ha portato questo pacco della Mondadori, dell'Oscar Vault non so che cosa c'è dentro anche se è un po' tutto stracciato perché il corriere non ha fatto un buon lavoro però ora lo apriamo e vediamo insieme cosa c'è sento che sono 3 minuti ma non so penso che uno sia la guerra dei papaveri ma solo perché è per il gruppo di lettura quindi c'è questa collaborazione nooo, dai! mi hanno dato il volume 2 di Heartstopper sono troppo felice aspetta un momento che ci sia anche sono super felice io devo recuperare il volume 1 quindi non ce l'ho ancora però assolutamente andrà in wishlist perché lo volevo leggere e quindi penso che lo leggerò in digitale e poi mi darò al volume 2 che è super cute oh mio dio, sono super felice ed è troppo troppo bello eccolo qui oh, bello con le pagine atture non me lo aspettavo neanche mi aspettavo questo che è Dipartimento di Teorie Folgoranti di Tom Grode che sono, io ne ho altri due di questo autore che sono delle strisce a fumetti oh, c'era la mia cartolina delle strisce a fumetti super cute e leggere io di solito le leggevo un paio a sera e mi facevano morire da ridere quindi super bello anche questo e costa 22 euro in copertina di gira questi sono ottimi da mettere sui tavolini da caffè per gli ospiti insomma in modo che quando arrivano se c'è qualche tempo morto e tu sei in bagno loro possono leggersi un po' di queste sono super super felice e poi c'è lui il nostro bambino che è un po' sporchino però non fa niente perché lo pulirò poi ed è La guerra dei papadri di R.F. Kuang che è appunto il libro del gruppo di lettura di Book Hunters Club per il mese di ottobre ha le pagine arancioni super fluo e poi è veramente un'edizione bellissima a me piace da morire il sotto alle end pages così il sotto è bellissimo e poi c'è anche la mappa è veramente bello 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 per ottobre e viene 22 euro veramente un'edizione bellissima è lungo 500 pagine ma ne vale assolutamente la pena io l'ho già letto in inglese non vedo l'ora di rileggerlo in italiano per poi parlarne insieme ma niente sono veramente super sorpresa perché mi aspettavo la guerra dei papadri visto che era una collaborazione per il gruppo di lettura ma non mi aspettavo assolutamente né Heartstopper né Dipartimento di Teorie Folgoranti questo sicuramente lo leggerò lo leggerò un paio di vignette sere quindi ve ne parlerò alla fine di questo reading vlog mentre forse leggerò Heartstopper e Heartstopper 2 anche durante questa settimana perché volevo qualcosa di cartaceo da leggere e niente ci tengo tantissimo a ringraziare la Oscar Vault per avervi fatto questi splendidi omaggi nuovo giorno nuovo pacco in realtà questo era arrivato ieri ma ero nello studio ma più disperato quindi ora che ho la mia pausa pranzo di un'ora in cui devo fare niente cose oltre che mangiare volevo aprirvelo è un pacchetto di book deposteri quindi è un qualcosa che ho ordinato io perché erano dei libri che volevo leggere questo mese poi vi faccio anche un piccolo update sul pochissimo che ho letto di Adepture Education tracciamo tutto ovviamente c'è come al solito il segnalibro non so perché io pecco sempre quelli bruttini e il libro in questione è Rebecca di Daphne Dumourier sicuramente se era questa era prima di tutto una delle mie copertine preferite c'era un'altra più bella ma è rigida e io volevo prenderlo in copertina flessibile ma mi piace veramente tantissimo e qui sotto infatti ci sono altre due delle copertine dei libri di Daphne Dumourier quindi se mi piace da questo sicuramente acquisterò anche gli altri e in italiana si intitola la prima moglie Rebecca la prima moglie quindi niente io non vedo l'ora di leggerlo sicuramente farà parte di un rediglog a parte perché io volevo leggere questo volevo leggere Northanger Hubbay di Jane Austen e volevo leggere Eddie LaRue i primi due questi due cioè Rebecca e Northanger Hubbay che ho qui sotto la bazzia di Northanger dove sta? vabbè sta qui sotto da qualche parte sono romanzi godici quindi vorrei proprio leggere questo mentre Eddie LaRue non lo so non lo riesco a inquadrare quindi per il momento sì niente io l'ho pagato costa 8 sterline 99 penso che l'ho pagato 9 euro non è super floppy però è abbastanza da permettermi di leggerlo e quante pagine sono? perché non lo so sono 420 pagine mi dia anche una lettura bella lunghina e niente ah sono felice per quanto riguarda invece Added to the Education sono arrivata al 25% e nonostante io non stia capendo affatto dove voglio andare a parare Naomi Novik perché non capisco non so se questa è una serie è un libro singolo boh però boh mi intriga un botto il mondo è così vitarro così oscuro il personaggio principale è così unlikeable è veramente orrendo come personaggio nel senso che non sarei mai voluta diventare sua amica forse probabilmente io avrei fatto di tutto per essere sua amica perché amo questo tipo di personaggi le stronze fondamentalmente e mi sta piacendo un sacco quindi sì è la lettura perfetta per ottobre cioè davvero dà tutte le vibes giuste però sì questo per oggi sarà il mio piccolo piccolo aggiornamento di lettura spero come sempre di poter leggere di più ma non so domani andiamo a verbalizzare l'esame quindi domani è il giorno in cui ci svegliamo presto alle 6 e mezza facciamo colazione fuori mentre leggiamo a data di education in modo che ci portiamo un po' avanti poi andiamo direttamente cioè ci portiamo anche da studiare così nel frattempo tra il punto A e il punto B che è la verbalizzazione dell'esame ho anche qualcosa da studiare e poi torno a casa a studiare tutto il giorno quindi penso per le 10 di essere riuscita a fare questo poi devo stampare i fogli per la domanda di laurea tipo che? sono arrivata alla laurea quasi? sempre se non mi boccia quest'esame a quel punto lo posso anche stracciare il foglio della domanda di laurea e niente quindi domani sarà una giornata molto piena niente niente questo è tutto andiamo avanti si distrugge quest'esame ce la faremo no bellissimo quando ti rendi conto che nella clip del unboxing ti si vede solo la faccia però welcome to my life un disastro dove non so per il 90% del tempo quello che sta succedendo ma se tutto va bene e se Sara riesce a non spendere tutti i suoi soldi prima del Black Friday probabilmente farò un upgrade con la macchinetta e avrà il flip screen quindi sarò povera però almeno potrò vedere quando mi riprendo solo la faccia yes anzi se ci avete peta per me vi prego acquistate i libri tramite Amazon tramite i miei link perché mi aiuta cioè nel senso a me arriva una piccola commissione e voi non pagate nulla di più e io la userò per comprare una macchinetta e non rimanere sotto i ponti thank you giusto perché sono un disastro quello della fila dei libri che devo ancora farci lol ed è tipo gigante e alcuni li ho già sistemati quindi sì prima della fine di ottobre book haul perché ah ah no 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 11 meno un quarto e tu volevi leggere ma sei arrivata a quest'ora porti a studiare fino alle nove e montare e fare la copertina del video che deve uscire domani quindi sì questa non è una giustificazione non è una scusa ma un po lo è per il perché i miei reading vlog iniziano sempre super gasati e poi non leggo mai niente fondamentalmente non ce l'ho il tempo di legge da un lato sono super triste quindi non lo so proverò a legge mezz'oretta adesso giusto per potervi fare qualche aggiornamento domani ma sono a pezzi quindi penso davvero che mi faccio la tozza di te e vado a dormire non so potrei tipo uno di questi giorni sfruttare il fatto che mi sveglio molto presto e per molto presto intendo per le sette meno un quarto riesco a fare colazione fuori e leggere un pochino in modo che riesco poi alle otto tornare a casa iniziare a studiare ma se non mi sveglio presto non si fa quindi vediamo quello che riesco a fare in questi giorni vi terrò aggiornati stesso posto giorno diverso mi vedete così tipo un cadaverino perché lo sono sono un cadaverino dopo domani ho l'esame quindi si vede la mia più fedele somiglianza a uno zombie ma a meno che mi avvicino la data stessa e si qui ci ha disseminato il disastro di fogli di cose che devo ancora ripetere ma questo è il mio momento pausa perché devo fare merenda sento il calo di zuccheri essendo la morte interiore ma volevo anche aggiornarvi perché ieri notte visto che avevo bevuto troppo caffè di ripoveriggio ho capito che una caffettiera intera io non la posso bere perché poi non dormo se non dormo non ripeto il giorno dopo ho finito deadly education di nomi 9 che devo dire che mi è piaciuto veramente un sacco col finale allora è un libro molto anticlimatic io direi perché non è che succede che anche c'è la fine è molto lineare non c'è l'azione la cosa il conflitto principale ok sì forse ma è più una grande introduzione a se stesso è una storia che si legge assolutamente per i personaggi e per l'atmosfera non per la trama perché non esiste cioè questa è gente che si deve diploma basta il che mi è piaciuto perché era esattamente quello che cercavo volevo qualcosa di super dark e atmosferico e l'ho trovato mi è piaciuto veramente tanto i personaggi sono vari devo dire che non sono tutti benissimo caratterizzati sono due protagonisti quindi galadriel e orion però nonostante questo non mi è pesato perché mi piaceva leggere di entrambi l'ho letto veramente con grande piacere nonostante io riesca a capire che non è a livello degli altri libri per altre persone di nomi 9 che sono un pochino più profondi più insomma c'è un conflitto però è estremamente unirico una relazione uno stile narrativo meraviglioso che a me è piaciuto tanto e è super dark raga se volete i vibes dark academia leggete a deadly education e non ve ne pentirete anche se nonostante sia dark non è così crudo come potrebbe sembrare perché c'è gente che muore però non in scene molto crude ecco ninth house mostra scene molto più crude però allo stesso tempo muore una frega di gente e niente io ve lo consiglio mi è piaciuto per adesso sto sulle quattro stelline non penso che arrivi a di più e nel frattempo ho iniziato anche the sundown motel che io leggo mentre faccio colazione merenda e la sera cioè nei momenti nei pochi momenti in cui non sto sgolando la mia gola per ripetere ho bisogno di mettermi del burro cacao perché ho le labbra morte a furia di ripetere se non passo questo esame muoio e quindi per adesso ho letto solo il 15% perché è un libro molto più breve dell'altro molto più leggero e molto più scorrevole che si espande su due linee temporali si chiama da una parte vivian che nell'82 lavorava in un motel dopo essere andata via di casa aveva 20 anni e poi scompare una notte nel nulla sembra che il motel sia infestato ma non si capisce bene poi ci sono praticamente 40 anni dopo la nipote vuole indagare e scoprire quello che è successo perché il suo zia non è mai stata ritrovata e quindi va nella stessa città dove era lei e niente vi terrò i giornati per adesso io vado solo a mangiare cioè non connetto quindi sì questo è il vlog di Sara Zombie e siamo qui arrivati alla fine anche di questo reading vlog con una bellissima notizia cioè che mi è stato anche rimandato l'esame perché oggi in realtà è lunedì e questa è la giornata in cui io di solito chiudo il vlog come sempre e eh sì mi hanno rimandato l'esame a giovedì prossimo che verrà quindi passeremo anche questo reading vlog praticamente vivendo nel terrore perché dopo l'esame di giovedì ne avrò uno anche lunedì e quindi sì in realtà me la prenderò un po' più comoda meno stress e cercherò di fare anche qualcosa per me stessa quindi probabilmente questo reading vlog sarà un pochino più carino quello che verrà dopo voglio dire però volevo chiudere il reading vlog insomma parlandovi di quelle che sono state le mie ultime letture ho letto tutto quanto A Deadly Education di Naomi Novik e mi è piaciuto veramente tantissimo un libro da Cracadimio di cui ormai vi ho parlato tantissimo per quanto riguarda la trama e non mi ripeterò però mi è piaciuto veramente tanto non è un libro portato avanti dalla trama ma da personaggi e dell'atmosfera e appunto mi è piaciuto tanto quindi quattro stelline piene mi è piaciuto molto e poi ho iniziato The Sundown Motel e devo dire che non me ne ho mai parlato fino adesso perché l'ho iniziato ieri e ieri non l'ho vloggato quindi paradossalmente questo è il primo update su questo libro ma ho letto il 50% lo leggevo soltanto la sera perché mi aiutava a ricassarmi paradossalmente nonostante sia un thriller slash horror ma mi è piaciuto veramente tanto se come me amate il tema case infestate in questo momento avete visto per esempio The Hunting on Bly Lighthouse che devo ancora guardare in realtà Bly Manor che poi è vabbè io ve lo consiglio un sacco perché parla di un hotel infestato e di questa ragazza che si trasferisce per un paio di giorni a Fel cittadina nello stato di New York per indagare su quella che è stata la scomparsa di sua zia 35 anni prima Bly Manor la zia di questa ragazza appunto si era trasferita a Fel da politizio con la madre una cittadina in cui c'è uno strano alto numero di ragazze che vengono assassinate e inizia a indagare su quello che succede nell'hotel dove inizia a lavorare che sembra infestato da fantasmi e appunto cosa accomuna gli omicidi di tutte queste ragazze veramente bello per adesso sono arrivata al 50% e mi sta prendendo tantissimo quindi io presumo di riuscire a finirlo entro oggi e poi voglio tenermi con il vibe quindi questa settimana voglio riuscire a leggere tre libri e quindi penso di riuscire a finirlo entro oggi ma ne parleremo nel prossimo reading vlog e niente ragazzi questo è tutto io direi di chiudere il vlog qui spero che comunque vi sia piaciuto e sì se siete arrivati a guardare fino a qua commentate con l'emoji della torta di compleanno così random per far parte del club segreto dell'emoji di Orange Dinosaur Hour io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al vlog della prossima settimana ciao ragazzi